E' iniziata ufficialmente questa mattina la preparazione atletica in vista del campionato di Serie B 2019-2020 del Perugia, mattinata di test fisici per alcuni biancorossi che hanno sostenuto varie prove sotto l'occhio vigile del nuovo preparatore atletico Andrea Arpili, che assieme al preparatore dei portieri Gianfranco Gagliardi, al match analyst Lorenzo Vagnini e all'allenatore in seconda Marcello Donatelli compone lo staff tecnico di Massimo Oddo. Già in gruppo da ieri sera i tre acquisti già ufficializzati dal Grifone, Cristian Capone esterno d'attacco classe 1999 proveniente dall'Atalanta, Mattei Rodin, difensore centrale classe 96 prelevato dall'FK Zelieznikar e Jacopo Manconi, attaccante classe 1994 proveniente dal Novara. Si attendono invece gli arrivi di Pietro Iemmello e Gianluca Di Chiara dal Benevento e di Paolo Fernandes dal Manchester City. Il loro arrivo a Perugia è previsto per oggi pomeriggio, quando i biancorossi sosterranno il primo allenamento in campo della stagione. Una rosa extra large quindi quella che si appresta a partire per il ritiro di Pietralunga. Lo stadio Vincenzo Martinelli ospiterà il Perugia dal 17 al 30 luglio, con Massimo Oddo che avrà già a disposizione una squadra quasi al completo, in attesa di qualche altro colpo, anche se adesso il lavoro del direttore sportivo Goretti è soprattutto concentrato sulle uscite, con tanti giocatori che hanno la valigia in mano. Tre le amichevoli in programma durante il ritiro di Pietralunga, una contro la Pietralunghese, una contro la rappresentativa Valdichiana e una contro il Cesena, in attesa del 31 luglio, data dell'amichevole di lusso contro la Roma.